Sono stati circa 200 gli studenti di scuola media e superiore che hanno preso parte alla campagna educativa itinerante della Polizia di Stato Una vita da social sabato scorso ad Andrea. Nel complesso sono stati 7 gli istituti della BAT coinvolti in una mattinata che in largo torneo ha completato le iniziative del tour della legalità organizzato dalla prefettura di Barletta Andrea Trani. È una campagna che è arrivata ormai alla non edizione, è una campagna itinerante con questo track multimediale brandizzato che si sposta per tutta Italia e con loro anche i poliziotti della Polizia Postale e delle comunicazioni che incontrano i ragazzi e naturalmente li mettono in guardia su un corretto utilizzo della rete. Facciamo educazione digitale. Virtuale e reale. Prima regola da non sottovalutare mai quando ci si approccia al mondo dei social. È reale? È stato anche l'interesse che i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato per argomenti che toccano da vicino il loro quotidiano. Come ci spiega la dirigente della Polizia Postale Ida Tammaccaro, social network ma anche cyberbullismo e revenge porn. Alcuni dei temi trattati con tantissime domande dei ragazzi. Utili anche alcuni consigli pratici sia per i più giovani ma anche per i genitori. Ai ragazzi e noi consigliamo sempre di essere cauti, di riflettere, di pensarci prima quando utilizzano i loro dispositivi e quindi di essere attenti prima di postare i propri contenuti in rete perché la tutela maggiore è la prevenzione. Ai genitori diciamo di essere vicini ai ragazzi e di cercare di comprendere il loro mondo, di affiancarli nella vita digitale perché nel dialogo possono aiutarli a evitare di incorrere in brutti pericoli nell'utilizzo dei social o comunque più in generale della rete. Grazie. 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 Grazie.